Ciao, sono Inè Stucco, ho 14 anni, sono andata a Roma ma vivo già da 4 anni a Valle Martella. Sono alta 1,54 m e sono in italiano spagnola da parte di mamma, che viene da Madrid. I miei si sono conosciuti in una nave da crociera. Vado in primo superiore, indirizzo turistico e ho scelto il turistico perché mi piacciono molto le lingue e mi piace molto viaggiare. Sono una ragazza a cui piace fare nuove amicizie, anche se all'inizio sono un po' attivita, però piano piano col tempo divento me stessa. Ho tre cani e con uno dei tre, Chaplin, ho fatto agility dog per più o meno un anno. Questo sport consiste nel fare dei percorsi con il proprio cane e poi con un po' di esperienza si iniziano a fare anche le gare. Sono abbastanza brava a disegnare, infatti sono molto brava a disegnare i volti delle ragazze, mi piace molto sperimentare nuove tecniche sul disegno. E so suonare a livello scolastico la pianola e penso che sia uno strumento molto interessante. Mi piacciono molto vedere i film, per esempio quelli di Spider-Man, il mio superiore preferito, i film aromantici e quelli di Tim Burton. Adesso vi faccio vedere i miei profili. Uno E due Con questo è tutto, un bacione, ci vediamo, ciao! Ciao!